Come lo chiamiamo? Ce lo dica lei come si chiama? Se voi avete memoria potrete ricordare che Beppe dal palco a Italia 5 Stelle l'ha preannunciato per cui è una novità annunciata, pertanto non è alcuna novità. Beppe e con lui anche Gianroberto sono stanchi, non possono tirar la carretta da soli, c'è necessità di altri che possano sui territori e non soltanto affiancare questo sforzo. È uno sforzo notevolissimo, è uno sforzo cui tutti quanti noi o per primo dobbiamo rendere grazie perché grazie all'innovazione e alla tenacia di due persone in Italia c'è stato un cambiamento epocale di prospettiva. Noi dal nulla siamo diventati qualcosa, qualcosa che adesso il sistema sta cercando di bloccare, di osteggiare, ma qualcosa che incarna anche le speranze di tanti milioni di italiani che non vogliono più sentire di una politica che non pensa ai cittadini. Vedete voi siete tutti qua intorno a me, probabilmente per due espulsioni, probabilmente per il cosiddetto direttivo, quando invece il nostro paese ha raggiunto il record storico della disoccupazione. Ma minimizza le espulsioni, senatore?